La Commissione regionale agricoltura in visita alle vasche di maricoltura di acqua nel porto di Lavagna. Con la rimozione dei filtri dell'acquedotto, Casazza Ligure archivia l'emergenza idrica iniziata nel settembre dello scorso anno. Il parco di Villa Rocca di Chiavari riapre fra 15 giorni. La rimozione degli alberi abbattuti deve essere fatta da una ditta specializzata. Pronto a partire il 39esimo anno dell'Accademia Culturale di Rapallo. Tra le novità un doppio corso di lingua russa e uno di lingua cinese. A palti truccati nell'assegnazione dei lavori per la linea ferroviaria alta velocità Genova-Milano, 14 ordinanze di custodia cautelare. La città metropolitana valuta se impugnare la sentenza del TAR che ha bocciato il piano dei rifiuti. Il Tribunale permette ai comuni del Tiguglio di proseguire con la gestione improprio. Turismo in Liguria nel 2016, dati in crescita di oltre il 5% rispetto all'anno precedente e sinora sono arrivati 4 milioni di visitatori. Lezione al frantoio della cooperativa agricola Lavagnina per gli studenti dell'Istituto Alberghiero alla scoperta di come viene prodotto l'olio d'oliva. Recuperare il vecchio palazzo di giustizia di Chiavari, il D.A.C., ma servono tanti soldi per i lavori di adeguamento. Un nuovo asilo a Casarza Ligure si chiama Bubu Settete e può accogliere sino a 21 bambini. Nasce l'Associazione Genitori Istituto Genelli Chiavari per promuovere l'attività della scuola in fase di rilancio. Nuova mappatura della regione sulle aree industriali in crisi per l'accesso ai bandi. Protesta del sindaco Ghio sull'esclusione di Sestri Levante replica l'assessore Rizzi, scelte le zone più a rischio. Presentato a Chiavari il volume Il peso del vero, raccolta di poesie di Lorenzo Negri. Il giovane affetto d'autismo comunica le sue emozioni attraverso la scrittura. Omicidio di Craviasco, arrestato il nipote della vittima. Secondo gli inquirenti sono stati decisivi le intercettazioni ambientali e i video delle telecamere. Benvenuti al nuovo appuntamento con il Tg, guardando la settimana, la nostra rassegna dei principali fatti accaduti nel Tguglio negli ultimi sette giorni. Iniziamo dalla giornata di lunedì per parlarvi della visita che la Commissione regionale agricoltura ha effettuato nelle vasche e nella sede della società Acqua di Lavagna o che opera nel porto di Lavagna. Vediamo com'è andata. Abbiamo incrementato anche l'attività in mare, abbiamo un piano di sviluppo di modifica delle gabbie esistenti e abbiamo anche investito in un'altra unità navale che ci è servita per adeguare l'attività e la produzione che abbiamo. Oggi la visita anche della Commissione regionale, cosa chiederete loro? Una certa attenzione al settore dell'acquacultura, spesso l'acquacultura è un po' negletta ma in realtà anche a livello mondiale, a livello europeo ormai rappresenta il 50% del pesce che si consuma sulla tavola di tutti e ha bisogno di politiche di sostegno per riuscire a svilupparsi, specialmente in una terra come questa Ligure che da un lato è sì sul mare ma è comunque sottoposta a situazioni molto difficili, molto impegnative, mareggiate, sostanziali. È una produzione comunque ecosostenibile, a volte accusata di sfruttare l'elemento marino, in realtà è il contrario? È proprio il contrario, cioè la prima forma di gestione delle risorse marine, nel senso noi prima di pescare seminiamo in mare e poi manteniamo l'integrità costante dell'ambiente marino, noi abbiamo monitoraggi ormai da 15 anni che svolgiamo questa attività, controlli continui sull'acqua e sui fondali, abbiamo visto che non c'è nessun impatto. Ci sono delle grandi potenzialità nell'itticoltura e la regione è chiamata comunque a sviluppare questo settore? Sì sicuramente, tra l'altro abbiamo anche i nuovi fondi europei, il FEAMP, che sono fondi che aiutano anche l'acquacultura però io credo che questa debba andare di pari passo con la pesca tradizionale, purtroppo l'Europa ci impone sempre più di andare verso l'acquacultura, io credo che le due realtà possano convivere bene, l'acquacultura vedo che le prospettive sono veramente ottime anche a livello occupazionale e quindi credo che ci saranno importanti sviluppi in questo senso però io non abbandonerai, anzi continuerai a puntare sulla nostra tradizione, quello che ha fatto grande la marineria a Ligure i pescatori Liguri e quindi la pesca tradizionale. Dicevo prima, i fondi comunitari sicuramente possono essere un buono strumento per aiutare sia gli uni che gli altri, noi cercheremo di utilizzarli al meglio. Andiamo adesso in Val Petronio, Casarza Ligure, con la rimozione dei filtri viene archiviata l'emergenza idrica scattata nel settembre dello scorso anno, resta comunque alta l'attenzione e il monitoraggio sull'area interessata dallo sversamento parleremo poi degli interventi necessari per la riapertura del parco di Villa Rocca a Chiavari danneggiato dalla tempesta di vento delle scorse settimane e poi è partito a Rapallo il 39esimo anno dei corsi dell'Accademia Culturale vediamo quest'anno che cosa è in programma, vediamo i servizi è un segnale che la situazione è in piena normalità, quindi voglio tranquillizzare i cittadini le analisi che sono consultabili sul sito danno una potabilità dell'acqua da oltre un anno quindi anche toglierli fisicamente è un segnale di tranquillità e di normalità Si è capito che cosa ha provocato questa emergenza? Sono ancora in corso delle indagini da parte della procura il quantitativo sversato, quel famoso 11 luglio è sicuramente tale dopo che inizialmente c'era stato detto diversamente che può comunque presupporre una correlazione tra l'evento e l'inquinamento ma non siamo noi a doverlo dire, c'è la procura che fa le indagini posso però dire che noi abbiamo partecipato come comune all'ultima riunione in città metropolitana nella quale abbiamo messo come prescrizione a coloro che stanno ancora eseguendo la bonifica del terreno di Tangoni il posizionamento di un piezometro sentinella tra il luogo dell'inquinamento e il pozzo di case nuove in modo tale da monitorare costantemente l'acqua prima del pozzo questo è un elemento per noi fondamentale Nel frattempo sta andando a procedura di gara l'appalto per la interconnessione tra l'acquedotto di Casalza Ligure e Sesti Levante a che punto siamo e questo cosa significa per il comune? Allora siamo ormai alla fine nel senso che l'importo è un importo talmente alto parliamo di circa 850 mila euro che sono stati stanziati da lato l'ambito territoriale ottimale di cui tutti i comuni della città metropolitana fanno parte è stata ritenuta un'opera strategica che consentirà finalmente al nostro paese di avere due fonti di approvvigionamento idrico una quella del pozzo di case nuove che comunque continuerà ad essere bonificato e l'altra quella dell'interconnessione con il pozzo di via Sara 1 le procedure di gara stanno terminando ho parlato con l'amministratore delegato di SAP stanno valutando le offerte pensano che entro la fine di novembre di poterle valutare tutte quindi nel mese di dicembre dovremo vedere l'inizio dei lavori Quanto dureranno? Circa nell'appalto sono previsti 150 giorni con tre lotti funzionali 10 anzi 11 giorni dopo la cosiddetta tromba d'aria che ha spazzolato il Tiguglio il Parco Villarocca è ancora chiuso, perché? Abbiamo avuto seri danni proprio in quella zona l'abbiamo chiuso in quanto in questo periodo tra l'altro non ci sono visitatori pochi visitatori quindi approfittiamo di questo tempo anche perché dobbiamo fare un piccolo bando per fare questo smaltimento, questo taglio di questo legname perché ce n'è in tutta Chiavari e quindi anche, dico ai cittadini chiaveresi, ricordo che non è che ce ne stiamo dimenticando ce ne sono altri nella zona del Lido, altri in via Perissinotti, in piazza del Buono e a brevissimo sarà appaltato questo lavoro da circa 50-60 mila euro a una dita esterna perché noi con i nostri giardinieri non riusciamo assolutamente a fare questi interventi anche perché poi va cippato tutto il materiale e non abbiamo neanche le attrezzature quindi diciamo che in una quindicina di giorni andrà poi tutto a buon fine Avete quantificato i danni che avete avuto dieci giorni dopo appunto quell'episodio? Se li stiamo quantificando sommariamente saremo nell'ordine dei 140-150 mila euro tra tutto tra le spese perché dicevo prima per il taglio del legname il tetto del palazzetto, la colmata con la recinzione e altri interventi che sono successi anche al Tribunale Nuovo dove si è divelto un cancello, una porta automatica insomma abbiamo avuto piccoli danni, diciamo piccoli danni da 10-15 mila euro ciascuno ma sommati fanno circa 150 Ecco, come vengono coperte queste spese impreviste? Ebbene, stiamo facendo delle variazioni di bilancio avevamo dei soldi e anche il fondo di riserva vedremo un attimino come utilizzarli perché dobbiamo intervenire prontamente chiaro che non c'è una somma urgenza ad esempio gli alberi sono a terra quindi non c'è pericolo ed è per questo che non siamo ancora riusciti a farli in tempi brevissimi ma fra le 8-15-20 giorni sarà tutto risolto In viaggio verso nuovi orizzonti è il titolo dell'anno accademico 2016-2017 Qual è l'importanza dell'Accademia Culturale per la città di Rapallo? È un istituto molto importante che nacque 39 anni or sono per una brillante idea dell'allora sindaco, il compianto professor Francesco Maria Ruffini e che di anno in anno ha avuto un successo sempre crescente quest'anno abbiamo un programma di particolare livello e qualità con tavole rotonde, con il coinvolgimento di istituti scolastici quindi anche il mondo dei giovani con docenti particolarmente esperti, autorevoli e competenti l'anno scorso abbiamo sfiorato le 400 iscrizioni un numero particolarmente ragguardevole che la dice lunga sulla qualità, sull'importanza di questa Accademia Quali sono in breve le novità di quest'anno? Due corsi, uno che è quello di russo che avevamo già anche l'anno passato ma che quest'anno si sdoppierà e cioè avremo un livello base e poi un livello più avanzato e poi è allo studio un corso di cinese in collaborazione con le scuole, gli istituti, i licei, i cittadini Per iscriversi come bisogna fare e quando farlo? Il giorno 28 di ottobre alle ore 16 nel Teatro del Clarisse vi sarà l'inaugurazione del 39esimo anno accademico A partire dall'inaugurazione, la settimana successiva sarà possibile iscriversi all'Accademia Culturale recandosi a Villa Queirolo in un orario che va dalle 14 alle 17 del mercoledì e giovedì L'amministrazione rapallese come aiuta i corsi di cultura all'Accademia Rapallese? L'aiuta diciamo con un contributo sostanzioso a parte che un po' si aiuta da sola perché su 55.000 più di 30 vengono recuperati dalla stessa Accademia per noi è un legame forte che vogliamo incrementare che vogliamo assolutamente mantenere e migliorare Una tempesta giudiziaria si è abbattuta sui lavori del Terzo Valico la linea ferroviaria ad alta velocità tra Genova e Milano sono scattate infatti le manette per 14 tra imprenditori e dirigenti abbiamo parlato di questo nel nostro telegiornale di mercoledì ma anche della possibilità che la città metropolitana impugni la sentenza con cui il TAR ha bocciato il piano dei rifiuti Un giro d'affari legato ad appalti truccati è stato scoperto dalla Guardia di Finanza in un'indagine nazionale che tocca i lavori del Terzo Valico sulla linea ferroviaria Genova e Milano e i lavori per l'autostrada Salerno-Reggio Calabria In totale sono stati disposti 21 arresti 14 dei quali emessi dalla giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova per la linea ferroviaria ad alta velocità La linea denominata Terzo Valico dei Giovi è stata definita di interesse strategico nazionale collegherà Genova e Milano e dovrebbe essere pronta per il 2021 con l'obiettivo di potenziare i collegamenti del porto con le principali linee ferroviarie del Nord Italia e il resto d'Europa Si sviluppa lungo 53 chilometri di cui 37 in galleria Il Cipe ha fissato un limite di spesa di 6 miliardi e 200 milioni per il consorzio Cochiv incaricato di realizzare i sei lotti La Polizia Tributaria di Genova ha riscontrato episodi di corruzione concussione turbativa d'asta il cui sbocco finale era quello di aggiudicare commesse per un valore complessivo di 324 milioni di euro Alcuni dirigenti hanno pilotato l'assegnazione dei lotti ad alcune società escludendone altre In alcuni casi hanno fatto in modo che offerte anomale divenissero regolari In altri si sono avvarsi della compiacenza di concorrenti di comodo che si sono iscritti al bando ma non erano interessati alla giudicazione della gara per indirizzare direttamente l'assegnazione dei lavori all'unico concorrente effettivo In altri si sono avvarsi della compiacenza di concorrenti di comodo che si sono iscritti al bando ma non erano interessati alla giudicazione della gara per indirizzare direttamente l'assegnazione dei lavori all'unico concorrente effettivo In una circostanza la turbativa veniva accompagnata dal pagamento di una somma di denaro Le indagini continuano in tutta Italia sono in corso perquisizioni e sequestri di documentazione in Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino Alto Adige, Emilia Romagna Toscana, Umbria, Lazio, Molise e Campania Il Tar della Liguria ha bocciato il piano metropolitano dei rifiuti accogliendo il ricorso presentato dai comuni di Rapallo e Santa Margherita Licure In pratica il tribunale ha detto no alla delibera che prevedeva un unico appalto e un unico gestore per la nettezza urbana in cinque comuni del Tiguglio Ora, dopo la sentenza, la situazione appare frammentata Rapallo proseguirà il suo iter ha spiegato l'assessore Arduino Maini e curerà la gestione dei rifiuti con Zoagli Il comune è in proroga con Eimeri Già questo venerdì, nella riunione di giunta sarà presentato il progetto per il bando che verrà portato in regione Il piano d'opera prevede l'introduzione parziale del porta a porta, codici per i sacchetti e tessere per i cassonetti Lavagna aveva già stralciato la proposta del gestore unico per i problemi ormai noti che riguardano il comune A Santa Margherita Ligure si prosegue con la predisposizione dell'appalto, il sindaco spera di concludere tutto entro dicembre e andare a gara La notizia è stata accolta con soddisfazione Una sentenza diversa avrebbe stravolto un procedimento in atto Inoltre, ha spiegato Donadoni è meglio che ogni comune abbia riferimenti propri in materia di raccolta dei rifiuti Portofino, tra i primi a presentare ricorso pur senza chiedere la sospensiva del piano metropolitano si terra la sua gestione fatta in economia Unico scontento in questo quadro è il consigliere dell'ente metropolitano Enrico Pignone che si difende la sentenza del Tarva contro una legge regionale che a sua volta aveva fatto propria una norma nazionale, ossia che entro il 2020 si andasse verso un bacino unico di gestione dei rifiuti La città metropolitana aveva poi eseguito un compito assegnato dalla regione Pignone, ha spiegato, parlerà a breve con gli avvocati per vedere se impugnare la decisione del tribunale è un paese che si muove per carte bollate ha quindi commentato e non con il buon senso non va bene insomma che i comuni si gestiscano per i fatti loro piuttosto che camminare tutti insieme con un risparmio generale Cresce il turismo in Liguria secondo i dati forniti dalla regione un più 4% è stato registrato rispetto al scorso anno e poi parleremo di questo ma anche della visita che gli studenti della scuola alberghiera di Lavagna hanno effettuato ad un frantoio alla scoperta di come viene prodotto l'olio Sentiamo Turismo da record in Liguria Tra gennaio e settembre le presenze hanno sfiorato quota 14 milioni Il dato è il risultato della somma delle notti trascorse dai visitatori nelle strutture ricettive L'incremento rispetto allo stesso periodo del 2015 è netto più 5,21% I visitatori in totale sono stati circa 4 milioni 142 mila in più rispetto ai primi nove mesi del 2015 con un incremento in percentuale del 3,75 Balza agli occhi il dato di settembre che ha fatto registrare il 10,66% in più rispetto allo scorso anno negli arrivi e il 6% in più nelle presenze e i dati non sono ancora definitivi Chiaramente a fare da sfondo a questi numeri c'è il contesto internazionale particolarmente complesso ma secondo il presidente della giunta regionale Ligure Giovanni Totti che ha diffuso oggi i dati occorre anche mettere in luce l'impegno di chi si sta prodigando al massimo per fare del turismo un volano per il rilancio dell'economia della Liguria con uno sguardo in particolare ai giovani che possono cogliere questa opportunità per dare vita a nuove attività in ambito turistico e ricettivo Secondo l'assessore regionale al turismo Gianni Berrino inoltre i dati sarebbero confortanti perché se il contesto internazionale è comune a tutte le mete turistiche italiane la Liguria rispetto ad altre regioni ha riportato risultati decisamente più positivi il che la metterebbe in posizione concorrenziale rispetto alle mete normalmente più rinomate Analizzando i dati zona per zona si scopre poi che quella che ha fatto registrare il maggior numero di visitatori è stata la provincia della Spezia con un incremento del 9,6% rispetto allo scorso anno segue Genova più 5,49% Savona più 4,71% e infine Imperia più 2,7% e chiaramente qui occorre sottolineare il traino esercitato dalle Cinque Terre i turisti stranieri che hanno scelto la Liguria quest'anno sono per lo più tedeschi e francesi fra gli italiani e questa non è certo una novità piemontesi e lombardi sul totale dei 4 milioni di arrivi inoltre, altro dato significativo oltre un milione di turisti ha scelto di soggiornare in strutture ricettive extra alberghiere come campeggi bed and breakfast o case vacanze con un incremento del 12% Com'è quest'olio? Eh... c'è un profumo molto intenso è anche... è molto buono è molto fresco, si vede che è lavorato bene è un olio molto aggressivo è un profumo molto buono e si vede che è stata coltivata bene Ti è servito questo comunque per quello che sarà il tuo futuro, il tuo lavoro? Sì, ovvio, perché per un cuoco è normale che il deve sapere tutte queste cose dell'olio di qua e serve Non capita tutti i giorni di avere studenti che vengono a vedere come lavora un frantoio? A noi fa piacere parlare a questi ragazzi, in generale agli studenti, a questi dell'alberghiere in particolare perché riteniamo che siano un po' i ragazzi del settore li abbiamo notati attenti, li abbiamo notati interessati e bisogna un po' coinvolgerli in questi argomenti che sono un po' le colonne portanti della nostra alimentazione in particolare ma della nostra economia direi in generale Come classe seconda di scuola alberghiera abbiamo un'unità di approfondimento proprio sul tema dell'olio d'oliva, quindi un prodotto del nostro territorio quindi abbiamo colto l'occasione, l'invito al volo da parte del signor Gianni per venire a visitare appunto la loro cooperativa Che esperienza è per i ragazzi questa? Alcuni di loro è la prima volta che vedono comunque un frantoio? Tutti penso, è la prima volta perché loro appunto sono una seconda quindi all'inizio del secondo anno è un'esperienza sicuramente positiva prima di tutto perché la gita è sempre comunque un momento anche di aggregazione quindi loro hanno anche bisogno di cose secondo me esterne, di fare comunque gruppo e poi sicuramente è didattica perché l'olio d'oliva lo sappiamo tutti è un prodotto importantissimo sia per la nostra dieta mediterranea che per la nostra alimentazione comunque devono conoscere i prodotti del territorio e infatti comunque a scuola hanno anche molta teoria perché la merciologia bisogna conoscerla proprio perfettamente Siamo così arrivati alla giornata di venerdì nei nostri servizi abbiamo parlato del progetto di recupero del vecchio tribunale di Chiavari con alcune proposte che sono state presentate del nuovo asilo che ha aperto i battenti a Casarza Ligure asilo privato che dà la possibilità di accogliere 21 bambini e poi sempre in tema di formazione la neonata associazione genitori Istituto Gianelli che intende promuovere l'attività della scuola Sentiamo L'antichità è il suo pregio ma anche il suo limite Il Palazzo della Cittadella nel cuore del centro storico di Chiavari vanta un'esistenza secolare ma attualmente non può essere rimesso a servizio della comunità civile Sui trascorsi storici traccia alcuni cenni il consigliere comunale Giorgio Getto Viarengo, esperto di storia locale Il Palazzo della Cittadella rappresenta a partire dal XV secolo il luogo delle istituzioni chiavaresi E lo resterà sino alla fine del Settecento quando nel periodo giacobino-napoleonico i francesi portano questa grande novità Chi deve amministrare il territorio sta nel palazzo del municipio Chi deve amministrare la giustizia sta in un luogo che si chiamerà Tribunale Difatti viene costruito il municipio e il Palazzo della Cittadella che fino a quel momento era il Palazzo del Governo diventa il Tribunale di Chiavari Il sindaco Roberto Levaggi ipotizza in futuro di destinare il Palazzo della Cittadella a iniziative culturali di prestigio Ma nell'immediato si pongono alcuni ostacoli da superare Prima di tutto occorre fare alcuni interventi che costeranno svariate centinaia di migliaia di euro per risistemarlo Nel prossimo bilancio 2017 e nella programmazione 2018 interveremo E poi ritengo che a livello culturale faremo una proposta concreta con un progetto ben definito Per dare una risposta alla città da questo punto di vista Purtroppo ancora per un anno devono rimanere gli archivi del vecchio tribunale Perché con l'accordo che abbiamo fatto per liberare il nuovo c'è anche quello di mantenere questo In questa fase di attesa secondo lei è possibile fare già qualche cosa? Sì, abbiamo già perso e buttato via del tempo prezioso Io a questa amministrazione e in consiglio comunale ho segnalato più volte la necessità di dare vita da subito A un comitato di proposta per descrivere il futuro istituzionale di questo palazzo Perché chiaramente deve diventare una vera e propria fondazione come è Fondazione Palazzo Ducale di Genova In grado di avere tutte quelle autonomie per trovare le migliori soluzioni e arrivare a questo grandissimo obiettivo Un nuovo asilo privato apre in Casarza Ligure, come si chiamerà? Bubu 7T Come nasce questa idea? Nasce dal fatto che su Casarza non c'erano strutture o abbastanza strutture per accogliere tutti i bambini Noi siamo già state dieci anni su Sestri ma in realtà Sestri è oberata di asili nido e di strutture E quindi abbiamo pensato di spostarci qui su Casarza I residenti dove vi troveranno? In via Barletti 42 Che servizi offrite? Le strutture? Come è stato allestito comunque l'ambiente? Allora è diviso in più stanze e ogni stanza è adibita per le varie fasce d'età che possiamo accogliere Potremo prendere fino a 21 bambini dai 3 mesi ai 3 anni Apriremo la mattina alle 8 e chiuderemo il pomeriggio alle 5 Con la possibilità di anticipare l'apertura e posticipare la chiusura A seconda delle esigenze delle famiglie Quando aprirà la struttura e come fare per iscriversi? Allora inaugureremo il 29 di ottobre Dalle 10 e mezza del mattino si può venire a visitare la struttura Per le iscrizioni si può venire o in sede o scaricare tutta la documentazione dal sito Non chiuderemo mai, tolti i giorni in rosso sul calendario E 4 giorni di ponte che il provveditorato obbliga Ci si può iscrivere tutto l'anno e si possono fare anche gli inserimenti tutto l'anno E non solo due volte all'anno come nelle altre strutture Chi accoglierà i bambini e chi li costudierà e giocherà insieme a loro? Allora siamo io e una mia collega che comunque lavora con me da tanti anni Ci sarà una cuoca perché abbiamo deciso di non avere i pasti veicolati E nel caso la struttura andasse a pieno ritmo ci sarà una terza educatrice Quanti sono i genitori che fanno parte di questa associazione? Abbiamo 28 soci fondatori, ce ne sono tanti ordinari che stanno costituendo Si stanno aggregando in questi giorni in maniera molto molto notevole Avete anche studiato un logo? È un logo molto semplice, è una rondine che genera la G di Gianelli La G genera la A di associazione, di alunni, di Antonio Minera Gianelli E la rondine è la G che custodisce l'associazione Già nei prossimi mesi avete preparato alcune attività che verranno curate dai genitori Nell'ambito dell'istituto, quali saranno le prossime? Sono una piccola manifestazione di inizio Abbiamo il 6 novembre una castagnata nel nostro paese istituto con la caccia al tesoro alle ore 15 Poi faremo una cena di Natale molto bella con delle sorprese Quali sono esattamente le finalità dell'associazione dei genitori? Farci conoscere, promuovere l'attività dell'istituto Gianelli Far capire che ci siamo La scuola è una scuola di eccellenza dall'asilo fino al liceo I nostri figli sono considerati persone e non numeri Noi crediamo fortemente nel valore educativo e formativo della scuola cattolica I genitori sono sempre stati presenti nella vita della scuola Adesso in maniera più strutturata Qual è l'importanza e il contributo che possono dare i genitori? È unico Perché i genitori sono la nostra forza Sono il nostro confronto La nostra ricchezza E il nostro futuro Con loro ci possiamo confrontare Possiamo rivedere i nostri programmi E insieme crediamo e pensiamo di poter fare delle cose grandi E sento di dire che ho delle grandi speranze E ripeto quanto Gianelli ci ha sempre detto Sperate, sperate, sperate sempre Ma sperate bene I temi dell'economia nella giornata di sabato Con una nuova mappatura effettuata dalla Regione Liguria Sulle aree industriali in crisi Che non ha mancato di sollevare qualche polemica In particolare da parte del sindaco di Sestri Levante E poi per la cultura è stato presentato a Chiavari il libro Il peso del vero raccolta di poesie di Lorenzo Negri Vediamo i servizi Qual è secondo voi la sensazione della gente di Sestri Levante? Quali commenti sentite? Allora io tutti i giorni incontro gente E tutti i giorni sento gente che mi dice che ad esempio con la nuova viabilità Sestri Hanno dei grossi problemi E ci sono veramente dei grossi problemi L'amministrazione per prima cosa avrebbe dovuto fare il test sulla viabilità Non adesso Avrebbe dovuto farlo, visto che siamo un paese turistico Nel pieno del traffico Quindi a luglio-agosto Nel vostro comitato ci sono anche dei rappresentanti ambientalisti E si dice strano che siano contrari all'ampliamento del parco Io ieri sera ad esempio non ho avuto nessuno contrario all'ampliamento del parco E' semplicemente sorto un problema riguardo a una zona Nella quale l'amministrazione intende far costruire un albergo Ed è una situazione abbastanza controversa Perché la proroga a costruire a quanto pare è scaduta nel 2014 Quindi è una zona che può essere riveduta corretta Una cosa che poi valuteremo Perché soprattutto, visto che cemento ne hanno già costruito abbastanza E se andiamo a vedere i primi progetti Ne hanno costruito due volte tanto rispetto a quello che era il progetto in origine L'amministrazione, nell'interesse della città, potrebbe prendere tranquillamente delle altre decisioni Dopo l'assemblea pubblica, quali saranno i vostri prossimi passi? Tanto siamo sempre in attesa che ci rispondano sulla possibilità di effettuare un referendum E poi procederemo con una raccolta di firme al fine di avviare una petizione Al fine di far sì che questo progetto arrivi in Consiglio Comunale Che se non altro qualcuno valuti e ne discuta Anche perché questo viene proprio dalla città Quindi è quello che i cittadini vorrebbero Lorenzo Negri ha 25 anni È nato a Chiavari dove vive con i genitori Ha conseguito la laurea in filosofia e frequenta la laurea magistrale in scienze filosofiche Lorenzo è autistico Nel 2007 ha iniziato a scrivere poesie su suggerimento di una sua insegnante 8-9 anni fa, la prima vuole Questo è il terzo, il terzo libro che pubblica Cosa scrive principalmente? Solo poesie Cioè va all'università, scrive quello che deve scrivere Però in prevalenza poesie Lui racconta se stesso Sono molto toccanti Lui riesce attraverso la poesia ad entrare in contatto con il mondo In una maniera che altrimenti non gli è consentita Dal suo mondo Lorenzo riesce a trasmettere note di saggezza E spunti di riflessione per tutti Attraverso la scrittura Che ha aiutato molto il giovane ad uscire dal suo isolamento Parecchio perché lui si esprime col computer Basta Non sa scrivere la penna Esprime tutto intero se stesso In modo particolare Il senso della sua Della sua esperienza non facile In qualche modo La sua prigionia all'interno di un silenzio Che riesce a rompere soltanto attraverso la poesia O attraverso la letteratura Lorenzo è molto bravo L'ultimo volume di poesie pubblicato Si intitola Il peso del vero Una raccolta il cui significato è ben sintetizzato Dall'immagine in copertina Realizzata da un amico dell'autore È un po' la figura di Lorenzo Che pesa su una giustizia In questo caso bendata E che è quello che probabilmente manca In questo periodo E quello a cui lui si riferisce in tantissime poesie Sente proprio questa mancanza Esatto del senso della giustizia E siamo così arrivati Al momento del nostro approfondimento Che questa settimana è dedicato All'omicidio di Craviasco Con l'arresto da parte dei carabinieri Del nipote accusato Dell'omicidio di suo zio Vediamo i servizi che abbiamo realizzato Vi salutiamo e vi diamo appuntamento Alla prossima settimana Con il Tg Guardando la settimana Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di giornata Intercettazioni ambientali e riprese video Sono queste le prove che secondo gli investigatori Incastrano Claudio Borgarelli Nipote di Albano Crocco Il 68enne di Lumarzo Trovato morto e decapitato Nei boschi di Craviasco Alcuni frame di diverse telecamere Lo inquadrano nel gesto di abbandonare pesanti sacchi neri A Lumarzo e a Prato Quartiere alle porte di Genova Le riprese mostrano l'uomo che esce di casa con una tuta blu Mentre tenta di nascondere sotto la manica Quello che molto probabilmente è l'arma del delitto Ma sono le intercettazioni ambientali Ad aver dato una svolta alle indagini Lui commentava quello che era accaduto all'interno degli uffici O prima di raggiungere gli uffici dei carabinieri E quindi parlava anche da solo Di un percorso logico In cui secondo lui Da partecipare Nell'eventualità che gli fossero state poste alcune domande Ma non è solo questo Ci sono anche tante altre conversazioni Le ultime decisive prove hanno messo in luce alcune contraddizioni Nel racconto di Borgarelli Il tutto si collega con la storia personale Che legava i due uomini Più volte in contrasto Per futili motivi Sono da ricondurre alla costruzione di una strada interpoderale A materiali di risulta Che la vittima aveva nel passato Riversato all'interno di un terreno dell'interessato E quindi tutta una serie di ragioni particolarmente deboli Che all'interno di una mente sicuramente non lucida Hanno portato a ritenere che l'unico elemento di rivalza fosse l'omicidio Ora si cercherà di ricostruire la macabra vicenda I prossimi interrogatori saranno volti al recupero della testa di Albano Crocco Mentre i RIS proseguono le indagini scientifiche Sui reperti sequestrati dai carabinieri Noi riteniamo e confidiamo di poterla recuperare L'idea che i carabinieri si sono fatti E che probabilmente anche la procura condivide È quella che il corpo dovesse essere smembrato completamente Che lui non abbia potuto completare il lavoro E quindi si sia potuto disfare solo della testa Aspettiamo che il RIS conduca i propri accertamenti scientifici Per vedere se rispetto alle cose che abbiamo sequestrato Vi possa essere qualche parte di DNA Riconducibile all'interessato o alla vittima Qual è stato il primo elemento che vi ha fatto stringere cerchio Attorno alla persona che è stata arrestata con l'accusa di omicidio? Abbiamo da subito raccolto degli elementi Che ci facevano convergere l'attenzione su di lui Oltre ad ascoltare le persone del posto e di parenti Le sue contraddizioni, la sua avversione Su quello che aveva fatto nella mattinata Ci ha portato a concentrare l'attenzione maggiormente su di lui Lui continua a professarsi innocente? Sì, assolutamente Sembra essere estraneo i fatti a parole Gli elementi raccolti dalle intercettazioni ambientali Ossia questa autoammissione di colpevolezza Possono avere un peso poi futuro Anche in un eventuale futuro dibattimento? Noi abbiamo raccolto tutta una serie di elementi Che sono precisi e concordanti E che ci inducono a ritenere assolutamente fondato Il fatto che sia stato lui l'autore dell'omicidio Mancano all'appello oltre all'arma del delitto E alla tuta che si vede indossata dall'accusato Nelle immagini delle telecamere Manca all'appello purtroppo anche una parte del corpo della vittima Da questo punto di vista le indagini proseguono? Sì, proseguono Sono già state fatte tutta una serie di ricerche All'interno dei boschi con dei cani specializzati Abbiamo fatto venire da Firenze, da Bologna Per la ricerca di cadaveri Ma per adesso non abbiamo traccia Dobbiamo pensare che possa essere stata buttata Anche in quel sacco nero che vedete nelle immagini Quante persone sono state impiegate su questo caso? Per quanto riguarda le indagini in senso proprio È stato impiegato tutto il nucleo operativo di Chiavari E il nucleo investigativo del Comando Provinciale di Genova E poi sono state veramente decine Decine di carabinieri impiegati per la ricerca di tracce o parti del cadavere L'ultima cosa Avvisete avvalsi di intercettazioni ambientali e anche telefoniche? Sì, tutta l'attività tecnica naturalmente possibile è stata effettuata E ci ha dato ulteriori riscontri a quella che era l'attività classica svolta E ci ha dato ulteriori riscontri a quella che era l'attività